Oh, finalmente ci siamo sedute, ci siamo sedute. Sono le 10.20, Riccardo sta ancora dormendo, io ho detto stamattina, giro un po' di video, devo fare un po' di cose, alcuni video in collaborazione, prodotti finiti, insomma tantissime cose, vediamo cosa riesco a combinarle. Allora, questo qua intanto per incominciare è un video in collaborazione, è un sito che mi ha contattato, il sito è francese, ma la nuova arriva dalla Cina, quindi i prodotti devono andare alla Cina, il sito si chiama Neu Jury e mi ha fatto scegliere, mi ha dato un budget che il resto non mi ricordo perché è passato un mesetto, però io ho scelto due cosine che mi incuriosivano. Allora, vi faccio vedere molto velocemente perché dopo c'è tutto il resto, quindi vedete molto più da vicino alle cose. Allora ho scelto questo applicatore per il fondotinta e poi ho scelto questa organizer da borsetta. Niente ragazzi, mi hanno lasciato un codice sconto del 10% e trovate tutto nell'info box, tutte le informazioni. Io vi lascio un video che vi faccio vedere un po' più da vicino queste due cosette, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Questo è l'applicatore che ho scelto per mettere il fondotinta, è qualcosa di diverso quindi volevo proprio, ero curiosa, ero curiosa di provare e poi la spugnetta mi piace moltissimo, molto morbida e mi ricordava anche solo a guardarlo sul sito la Beauty Blender. Così mi sono lasciata incuriosire e l'ho fatta rientrare nel budget che mi hanno dato. Poi ho scelto questa organizer da borsetta, l'ho scelta nera, c'era in altre colorazioni ed è comodissima, non sembrerebbe ma veramente contiene tantissime cose ed è troppo troppo utile, io non ce l'avevo, ero davvero tanto tanto curiosa. Adesso andiamo a riempirla insieme così vi faccio vedere tutto quello che si riesce a mettere. È una cosa stupenda perché la si sposta da una borsa all'altra, quindi si perde poco tempo a fare il cambio di borsa che per noi nonne è importantissimo, quindi è una cosa irrinunciabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. anche questo video e ci vediamo alla prossima ciao